L'ultimo sangue a Platì era stato versato in maniera accidentale nei primi giorni dell'anno quando un 14enne uccise involontariamente Francesco Sergi di 36 anni con un proiettile vagante. L'episodio di ieri mattina però non è casuale. Pasquale Grillo, un 62enne bracciante agricolo già noto alle forze dell'ordine, è stato gambizzato con tre colpi di pistola di medio calibro mentre camminava per le strade della cittadina ionica. Colpito alle gambe e all'addome, Grillo è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Locri dove sta ricevendo le cure. Non è in pericolo di vita. Un episodio grave in un periodo in cui a Platì non si era sparato. Pasquale Grillo, infatti, è il cognato di Giuseppe Perre, considerato il boss di una delle endrine del paese, un ramo di quella famiglia Barbaro che ha conquistato la Lombardia, nonché zio di un altro boss, Saverio Trimboli, arrestato nel 2010 dopo 16 anni di latitanza. Potrebbe dunque trattarsi di un episodio che va molto al di là di una semplice vendetta personale, andando a coinvolgere equilibri criminali che coinvolgono non soltanto lo Ionio Reggino, ma anche le locali del Nord, ormai da decenni feudo dell'Andrangheta. Francesco Creazzo per la Cineus 24